Vince il Premio Cultura di Gestione per le politiche di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali il Comune di Budrio, Bologna, con il progetto Le Torri dell'Acqua, luogo del contemporaneo. Invito qui sul palco il Sindaco di Budrio, Giulio Perini, Claudia Cocchi della Fondazione Cocchi e Giovanni Chessa dell'Associazione Amici del Consorziale. Le motivazioni. Le Torri dell'Acqua, struttura dell'ex acquedotto, sito nel cuore della città, grazie ad un'importante opera di riqualificazione che rappresenta un notevole esempio di valorizzazione di un monumento di architettura industriale, sono state sottratte al degrado e destinate ad attività connesse all'arte contemporanea, alla musica, all'aggregazione culturale e giovanile. Il progetto ha coniugato il recupero fisico con la creazione di un vero e proprio luogo del contemporaneo, inteso come spazio di espressione moderna dell'arte e dello stare insieme, dove diverse forme culturali possano dialogare con il proprio pubblico. Inoltre, l'ente comunale ha attuato per Le Torri un coerente progetto di gestione, affidando lo spazio a soggetti che in sinergia e in stretta collaborazione con il Comune propongono un progetto fruibile da tutta la cittadinanza. A consegnare il premio invitiamo Antonella Galdi, Vice-Segretario Generale dell'Anci. Buonasera. La voglio vedere. Galdi vuole dire qualcosa? Intanto un ringraziamento a Federcultura è doveroso per il lavoro che svolge quotidianamente per assistere tante amministrazioni che si stanno confrontando con progetti innovativi come quelli che abbiamo premiato. E poi ringraziare il Presidente Grossi, tutti i suoi staff per queste occasioni. Sono occasioni importanti per dare visibilità a quello che sta accadendo, quello che viene realizzato oggi nelle nostre amministrazioni, che spesso magari per dimensione del Comune è noto, magari solo a livello locale, invece è necessario e importante dare visibilità nazionale a queste iniziative. Sono iniziative di successo dove i sindaci, le amministrazioni investono, investono tempo, risorse, impegno di tutta la cittadinanza e delle diverse, in questo caso appunto associazioni, fondazioni, organismi che coinvolgono la cittadinanza. Sono progetti molto importanti e vanno resi noti perché possano essere in qualche modo replicabili. evidentemente oggi noi spesso parliamo, quando sui giornali leggiamo dei comuni, si legge delle dichiarazioni del lancio, è sempre in tono ovviamente rappresentare dei problemi, problemi dei bilanci, problemi di sofferenza ed evidentemente questi problemi ci sono, ma c'è anche dall'altra parte la forza e la voglia di continuare a fare impresa, impresa valorizzando quello che è il patrimonio del nostro territorio. Io credo che il vostro progetto, la vostra iniziativa sia particolarmente interessante. interessante perché ho visto che ha saputo in qualche modo coniugare quello che è un'attenzione della vostra comunità rispetto alle tradizioni, ma al tempo stesso una forte vocazione anche a quello che è lo sviluppo, all'innovazione, al saper guardare, alle frontiere, a quello che ci attende. E questo progetto mi sembra in serra chiuda tutto questo. Quindi complimenti veramente a tutti quanti voi. Sindaco? Sì, un grande onore per noi perché siamo un comune di 18 mila abitanti, poco più di 18 mila abitanti. Oggi siamo premiati insieme a due capoluoghi di provincia che dal punto di vista culturale hanno tantissimo, hanno detto, hanno fatto tantissimo, hanno tanto da dire e da fare ancora. E quindi noi ci sentiamo davvero onorati. Sindaco Marino, insomma, c'è tutto per essere davvero molto contenti per questo nostro breve viaggio a Roma che però davvero, da cui torniamo con grande orgoglio, con grande felicità davvero, un grande impegno di questi anni. Siamo passati con le Torri dell'Acqua dall'abbandono e l'oblio anche dei cittadini per l'acquedotto storico che fu realizzato per la sanità, per la salute pubblica dei cittadini nel nostro centro storico. Siamo passati all'aggregazione giovanile, alla cultura, anche all'accoraggio e alla tenacia di realizzare un progetto che è davvero un progetto molto sfidante perché Torri dell'Acqua a quel luogo del contemporaneo poteva rischiare di essere qualcosa di complicato da capire e da intercettare da parte dei cittadini e anche da parte di chi piano piano ci sta anche aiutando economicamente. Invece ci siamo riusciti, la sfida è stata sostanzialmente vinta, anche se tante altre ne abbiamo davanti, ci siamo riusciti e di questo devo ringraziare assolutamente chi mi ha preceduto. Io sono sindaco solo, tra virgolette, da due anni, anche se sono due anni in cui chi fa il sindaco sa che è successo di tutto, però sono sindaco solo da due anni. Devo ringraziare chi c'è stato prima di me perché ha avuto coraggio nel recupero di quel luogo e chi ha in questi anni tenacemente portato avanti il progetto. Fondazione Cocchi, associazione Amici del Consorziale prima di tutto, ma poi anche compagnie teatrali, gruppi musicali che hanno riempito davvero di grande passione, di grandi competenze e di grande talento questo straordinario luogo, con pochissime risorse da parte nostra purtroppo, però davvero questo premio ci ripaga di tanti sforzi e anche di un iniziale scetticismo che era un po' diffuso nel nostro territorio. Questo premio invece ci ripaga di tutto quanto e adesso ci spinge ulteriormente a fare anche meglio nel prossimo periodo. Grazie a tutti. Sicuramente, grazie a voi. Buonasera.